Torneremo a dire no a questo decreto perché vogliamo condizionare la partecipazione dei nostri militari alle missioni di pace nel mondo al ritorno dei due Marò in Italia. Non valuteremo, vedremo. Dobbiamo scrivere che se entro un mese non tornano usciamo dalla missione antipirateria e se entro tre mesi i due Marò non tornano usciamo progressivamente da tutte le missioni. Chi non è buono per stare in Italia non può essere buono per combattere contro il terrorismo.